ciao allora oggi vi parlo di un altro correttore e questo è della essence quindi in prezzo basso ed è il all about matte eye covering concealer dice che è un correttore mattificante per imperfezioni ed occhiaie il colore che ho io è il 20 matte nude ed è la confezione è un 12 ml cosa vi posso dire allora la copre la consistenza è cremosa quindi ha una coprenza alta ed si stende bene attenzione però è molto cremoso quindi può andare bene per le borse in questo caso sì ma steso bene a modo picchiettando bene a modo e fissato bene non andiamo troppo ad estratificarlo perché è molto corposo come vi ho detto e farebbe troppo spessore va bene quindi come primo strato per andare a togliere tutte le discromie per le occhiaie sull'imperfezione invece questo assolutamente non ve lo consiglio perché è molto cremoso e quindi va tende a spostarsi a sciogliersi e quindi anche fissato con la cipri assolutamente no cosa che ho notato attenzione al contorno occhi perché sulle occhiaie va bene ma non andate troppo volte se avete delle rughette o zampe di gallina perché tende a segnarle come sapete ve l'ho già detto 5 6 volte in questo video non lo so è molto cremoso è vero ha una buona coprenza è abbastanza valido però è molto cremoso e quindi attenzione va bene quando avete le occhiaie molto scure in questo caso per andare prima passata e poi ci passate sopra con un correttore illuminante magari in questo caso può andare comunque per il prezzo e basso che ha dire che si può tranquillamente provare l'azione è mattificante lasciata la piedra assolutamente non è vero però andate a fissarlo con la cipra quindi non c'è problema fatemi sapere se avete provato come vi siete trovate e se vi sono stata utile mettete un like e iscrivetevi al canale così non perdete le prossime accensioni ciao 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 ciao